Il pilota cosentino Simone Iaquinta si conferma anche sul circuito romano di Vallelunga in uno straordinario ed emozionante weekend di Carrera Cup Italia, il campionato monomarca firmato Porsche. Iaquinta ha concluso al secondo posto sfiorando il successo sia in gara 1 che in gara 2. Il pilota cosentino con il grande fine settimana del Mugello ancora in mente ha vissato con una prestazione di altissimo livello, una gara 1 condotta in maniera attenta e calcolatrice senza forzature in attesa di eventuali errori avversari. La 911 curata da Ombra Racing Centro Porsche Catania ha risposto alla grande alle esigenze di velocità e tenute del pilota calabrese garantendogli quella stabilità necessaria al conseguimento di un grande risultato. Mentre in gara 2 mantenere il passo non era facile però Iaquinta è riuscito a stupire ancora di più andando a sfiorare la vittoria con un leggerissimo ritardo dal primo e un largo distacco nei confronti del terzo in classifica. Una prestazione eccellente per un gran finale di stagione in attesa ora dell'ultima uscita stagionale sul circuito di Imola dal 5 al 7 ottobre prossimi. Alla fine delle due gare un soddisfatto Simone Iaquinta ha dichiarato di aver ben gestito le due gare provando fino all'ultimo a superare l'avversario che lo ha preceduto. Una prestazione più che soddisfacente ha dichiarato comunque il pilota calabrese in vista dell'ultima fatica stagionale con la consapevolezza che chiuderà alla grande questo campionato. Grazie a tutti.